Buonasera a tutti, io mi chiamo Marco Maccarone e anche io ci metto la faccia. Io faccio parte di Nexiu da più di un anno. Inizialmente le gift card arrivavano, in seguito, dal mese di aprile, da quando ho richiesto la conversione dei crediti, io ho più di 2000 crediti. Ho chiesto la conversione dei crediti, tuttora non è arrivato ancora niente. Gli ho chiesti dal mese di aprile, mio cugino anche fa parte di Nexiu e l'ha chiesto dal mese di febbraio e non gli è ancora arrivato niente neanche a lui. Di conseguenza io sono andato presso la caserma della polizia a denunciare Nexiu e comunque è veramente una truffa, si dovrebbero solamente vergognare di ciò che hanno fatto perché hanno truffato tantissime persone, loro si sono arricchite e noi siamo sull'astrico. Io purtroppo ho fatto sacrifici per investire quei soldi in Nexiu e tuttora non ho rivisto nulla. Questa è la mia esperienza in Nexiu, spero che strisciano la notizia, le iene, qualcuno vadano a bussare alla porta di questi truffatori e a chiedere spiegazioni perché è veramente vergognoso quello che hanno fatto, stanno facendo tuttora perché continuano imperterriti a truffare le persone, a fare falsi abbonamenti, false promesse e a prendere per i fondelli. Io mi auguro che vedate questo video, auguro una buona serata a tutti e questa è la mia esperienza con Nexiu. Buona serata a tutti.